Siamo al telefono con Mr. Cappellacci, ormai già da qualche giorno in rosso-blu. Mr. a lei intanto vorremmo dare il benvenuto a Cosenza. Vorremmo sapere cosa spera di trovare qui, se pensa che il mercato possa dare delle risposte interessanti. Di quello che poi mi posso aspettare da Cosenza non lo so, nel senso che il problema è quello che Cosenza si può aspettare da me. Cosenza è sempre stata una piazza di quelle trascinanti per tutti. Adesso togliendo un pochino la lingua, non voglio essere troppo ruffiano, è quello che penso. Bisognerà poi chiaramente fare del nostro meglio, parlo di noi addetti ai lavori, principalmente la società, per quello che riguarderà la squadra. Bisognerà fare del proprio meglio sia in sede di mercato che ancora di più quando inizieranno poi i giochi. Però di questo non è dato sapere, la buona volontà c'è e vediamo che cosa sappiamo fare. Mister, è stato comunicato nei giorni scorsi il ritiro a Pescina, non pensa che sia un po' troppo distante per i tifosi? Questa non era una mia prerogativa. Sarebbe sempre meglio lavorare soprattutto inizialmente con il calore della gente. Teoricamente io avrei voluto allenarmi in una condizione climatica a mio avviso consona a una scuola di calcio che non è poi riferita a Cosenza perché mi hanno detto che allenarsi a Cosenza è molto caldo perché la mia possibilità era allenarci in sede, quindi fare la preparazione dove poi avremmo giocato. Abbiamo cercato principalmente queste zone dell'Italia centrale dove ci sono anche tante squadre per poter poi anche fare amichevole, per poter avere un po' di vantaggi. Siamo caduti poi su questa situazione abruzzese solo perché abbiamo avuto agli ultimi momenti un intoppo con quest'altra soluzione che avevamo trovato. Mister, a Norcia lei sa, si era scatenato un attimo una guerra quando è uscito fuori Norcia. Io non so se lei sa cosa accadde a Norcia un po' di anni fa durante il ritiro a Spoleto. Incontrammo il Siena in un amichevole e lì scoppiò la guerra. Quindi io non so se lei era informato però... Sì, sì, era informato. Tra l'altro io in quel periodo ero il responsabile di una linea del Siena. Tra l'altro, quindi avevo saputo di queste situazioni poco carine. Ma veramente poco carine. Siccome noi eravamo arrivati in un momento dove non era facile trovare una soluzione perché tutti i posti più o meno sono occupati, più o meno. Poi la mia conoscenza con il posto dove ho allenato per tre anni ha fatto sì che io magari chiamassi lì e trovavo una soluzione alternativa che è vero, è data anche da questo tipo di problematiche che poi si sarebbe potuta creare. Non l'avevo voluto sottolineare, ma è anche vero che probabilmente lì avremmo potuto trovare anche altre difficoltà di questo genere.